Quindi questa diretta della domenica sta diventando un appuntamento quasi fisso, adesso tutte le domeniche che posso, insomma che non ho altri impegni, la faccio volentieri, così condividiamo un po' di cose belle, di emozioni. Voi comunque se avete delle domande io sono super contento di rispondere. Allora sono tornato ieri sera da questo evento a Pomezza dell'Accademia di Leonardo Leone che è stato bellissimo, molto molto intenso e questo succede tutte le volte che ci sono persone motivate che si riuniscono con l'intento proprio di migliorare la loro vita. Quando succedono queste cose insomma che ci si ritrova con persone che condividono interessi affini e intenti simili e succedono le magie e quindi è stato bellissimo. Io ho fatto una giornata sulla fisica dell'anima, quindi sono partito un po' dai fenomeni quantistici, quelli più sconfinanti, quelli... E in particolare ho voluto dare attenzione a questo fenomeno che considero la più potente e importante scoperta della storia dell'umanità, il fenomeno dell'entanglement, dell'azione a distanza. A cui quelli che l'hanno dimostrato hanno preso quest'anno il premio Nobel, questa per me è stata una gioia infinita proprio perché questo è stato il premio Nobel per il fenomeno dell'entanglement. Per me è stata la dimostrazione che l'umanità si sta salvando da questo periodo un po' impegnativo dove c'è un conflitto in atto importante per contendersi il dominio e il controllo dell'umanità. Insomma ci siamo accorti che c'è un gruppetto di super ricchi che vorrebbe avere il controllo di vita e di morte su tutti e quindi stanno cercando di usare strategie. E quindi siamo in un momento particolare dell'umanità e cos'è che serve per venirne fuori, per venirne fuori in modo felice, in modo costruttivo. Cioè cos'è che serve fare per contribuire a creare un mondo felice che è quello che ci meritiamo, non quello della schiavitù. Dobbiamo tutti dare il nostro contributo e quindi il contributo fondamentale per me è proprio un contributo di consapevolezza. Iniziamo col diventare consapevoli di come è fatta la realtà e la realtà non è quella che ci viene raccontata, non è quella che ci è stata spiegata. Quindi innanzitutto la prima cosa fondamentale che dobbiamo recuperare è il rapporto con l'invisibile perché sappiamo che c'è questo metodo scientifico moderno che è stato concepito dalla Chiesa che ci dice che è reale solo ciò che è osservabile, ripetibile e dimostrabile. Quindi siccome noi abbiamo un'anima che non è osservabile, non è ripetibile, non è dimostrabile e quindi il metodo scientifico moderno ci ha tolto l'anima in sostanza. E questo è uno dei motivi per cui non riusciamo ad avere una visione completa della realtà e non avendo una visione completa della realtà riuscire ad essere felici è estremamente difficile. Quindi questo fenomeno dell'entanglement io l'ho amato tantissimo quando l'ho scoperto, il mio libro La fisica dell'anima l'ho scritto proprio partendo dal fenomeno dell'entanglement che per me è proprio la dimostrazione scientifica inequivocabile non solo che noi abbiamo un'anima che è onnipresente nello spazio, ma che ogni elemento di realtà ha un'anima che è onnipresente nello spazio. Quindi l'invisibile è la dimostrazione scientifica inequivocabile che l'invisibile esiste. E quindi quando tu ti accorgi, diventi consapevole di essere anima, e quindi si apre una visione della realtà completamente diversa da quella a cui noi siamo stati educati. Quindi a noi ci è stato detto che siamo piccoli, impotenti di fronte all'universo, all'universo infinito, una realtà che esiste e funziona indipendentemente da noi. E invece la fisica quantistica, col fenomeno dell'entanglement, ma anche con l'esperimento famosissimo, quello della doppia fenditura, ci dice che invece la nostra consapevolezza ha un ruolo fondamentale, ha un ruolo creativo sulla realtà. E il fenomeno dell'entanglement ci dice che noi abbiamo un corpo fisico ad alta densità di energia che si può localizzare nello spazio, ma abbiamo un campo di consapevolezza che precede lo spazio-tempo e quindi è onnipresente nello spazio-tempo ed è la nostra anima. E quindi quando tu sai di essere anima, a questo punto il passo successivo è quello, almeno quello che io consiglio a tutti di avere come intento, perché sono cose che accadono se tu le vuoi, se non vuoi non accadono, e viverne l'esperienza. Cosa vuol dire vivere l'esperienza della propria anima, no? E qui, ecco, mi piace andare a riprendere il mio amico Cartesio, no? Di cui ormai mi sono re-innamorato di lui e lo sto condividendo in ogni evento, in ogni circostanza. Adesso ho fatto questo corso a Carpi potentissimo proprio sul suo metodo e adesso tra poco inizierò lo stesso corso online, in diretta online. Perché Cartesio può essere così illuminante, no? Perché Cartesio può essere così importante in questo momento storico dell'umanità? Allora, intanto, una cosa che tanti non conoscono di lui, perché ovviamente se uno di Cartesio sa solo quello che c'è scritto su Wikipedia, non so neanche cosa c'è scritto, insomma, vabbè, viene presentato come ovviamente l'inventore degli assi cartesiani, della matematica, della logica moderna, e soprattutto è considerato il padre del razionalismo moderno. Questo è niente di più falso, perché lui è stato uno delle persone più spirituali che si è mai apparsa sul pianeta. Fra l'altro quello che lui ha fatto per l'umanità di importantissimo, questa è una cosa che pochi sanno, soprattutto quelli razionali, ecco questo qua, la sua esperienza con la sua anima, lui descrive questa esperienza che ha vissuto, che lui stesso ha definito il rapimento mistico, tutti i razionalisti dicono, Cartesio è il rapimento mistico, ma come è possibile? Il rapimento mistico? Eccolo qua. Ha vissuto, lui ha descritto di aver vissuto più volte esperienze spirituali molto intense, la prima nel 1619 quando era 23enne, che lui stesso definì il rapimento mistico, nel suo trattato di solo 12 pagine in forma di discorso intitolato Olimpica, che venne perso però ripreso da Leibniz e da Baylet, uno dei suoi primi biografi, scrisse di quel 10 novembre in cui solo in una stanza riscaldata negli intorni di Ulm, queste sono le sue parole, cadde in una specie di entusiasmo che predisponse il suo animo abbattuto a impressioni di sogni e visioni, grazie alla quale giunse a scoprire e definire i fondamenti di un'ammirabile scienza. I fondamenti di un'ammirabile scienza. Scienza, ai tempi di Cartesio, non era la nostra di oggi, quella dei razionali che considera la realtà solo ciò che è osservabile, cioè che ci dice che solo ciò che è osservabile è ripetibile, dimestrabile e reale. Questa è un'aberrazione moderna, perché scienza, fino ai tempi di Cartesio con la parola scienza, si comprendeva visibile, invisibile, metafisico, fantastico. Scienza voleva dire conoscenza in genere e non era stata fatta ancora questa separazione tra visibile e invisibile. Perché è stata fatta questa separazione? Perché se la scienza moderna ci dice che esiste solo ciò che è osservabile, ripetibile e dimostrabile, la nostra anima non è né osservabile, né ripetibile, né dimostrabile e quindi il metodo scientifico moderno ci ha tolto l'anima. E togliendoci l'anima ha creato questa cosa così impegnativa che stiamo vivendo, questo rapporto così competitivo tra di noi, sia quella che i nostri sensi riescono a... sto leggendo, Egno, ora, Gabbietto, attraverso, non so... A parte la percezione sensoriale che comunque ci dà una descrizione approssimativa della realtà, però i fenomeni quantistici ci hanno dimostrato che noi abbiamo un ruolo creativo sulla realtà, non possiamo considerarci solo osservatori passivi di una realtà che esiste indipendentemente da noi, ma ognuno di noi con la sua consapevolezza contribuisce a quei famosi collassi della funzione d'onda che determinano poi l'esperienza che uno vive, no? Gli elementi fondamentali della realtà che sono stati distrutti dalla fisica quantistica sono il realismo, la località e il determinismo, no? Cioè sono queste idee che noi abbiamo della realtà, il realismo è l'idea che esiste una sola realtà che è la stessa uguale per tutti, no? La fisica quantistica invece ha dimostrato che non è così. Esistono infinite realtà coesistenti stati sovrapposti e ognuno contribuisce a creare la sua. Per cui chi crede, pensa che la realtà e la vita siano bellissime e magnifiche vivono, chi crede, pensa che la realtà è magnifica e bellissima vive una vita magnifica e bellissima. Chi crede, pensa che la realtà fa schifo vive una vita che fa schifo, no? Chi è che pensa che la vita fa schifo? Quelli che guardano i telegiornali. Quindi torniamo lì, no? Quelli che si lasciano fare, mettere nella testa una visione della realtà distorta, orrenda, che è quella che ci arriva dalla televisione, dove tutti sono contro tutti, nell'ipercriticismo, dove le notizie sono solo quelle orride, insomma, questa è proprio un po' la base, no? Cioè adesso chi ancora non si è accorto che quella roba lì è meglio buttarla via, cioè stare davanti alla televisione a farsi riempire la testa di cose orrende è il modo più diretto per crearsi una vita orrenda, no? Quindi quello che noi abbiamo nella testa, le informazioni che noi abbiamo nella testa sulla realtà sono ciò che la realtà attinge per manifestarsi a noi così come noi crediamo che sia. Quindi meglio essere ottimisti, avere torto, che essere pessimisti e avere ragione. Però il concetto qui dell'anima, no? Cioè allora uno intanto deve arrivare a credere di avere un'anima e qui serve un po' di volontà. Perché? Di volontà. Perché? Perché tutta la nostra educazione, il sistema, tutti i sistemi di potere sono concepiti per depotenziarci. Quindi depotenziarci, renderci obbedienti, vuol dire innanzitutto renderci inconsapevoli. Inconsapevoli di cose? Inconsapevoli della nostra grandezza, inconsapevoli delle cose straordinarie che possiamo fare. soprattutto inconsapevoli del fatto che se riusciamo ad entrare in contatto con la nostra anima abbiamo la possibilità di entrare in contatto con il vero, con il vero, no? Quindi perché Cartesio è illuminante in questo? Perché Cartesio questo ha fatto nella vita e questo ha voluto insegnare all'umanità con questo suo librettino il metodo per ben dirigere la propria ragione e ricercare la verità, il vero, nelle scienze, nella conoscenza, no? Quindi il rapimento mistico, no? Che cos'è? È l'esperienza della propria anima, no? E quindi ecco qua, adesso vi leggo, questo è uno slide che uso, che userò nel corso che farò adesso, il 21, inizierò questo corso in diretta online proprio sul metodo di Cartesio. Quindi il rapimento mistico, Cartesio narrò anche di sogni e visioni che resero illuminante una sua notte successiva portandolo a vedersi circondato da scintille. Ecco, quando uno vive questo tipo di esperienze un po' metafisiche, no? Ci sono degli elementi un po' in comune. Ad esempio, è tipico che si possa sentire un profumo di rosa e di gelsomino. Rosa e gelsomino sono dei profumi che normalmente possono essere percepiti proprio quando si vivono esperienze mistiche, esperienze di connessione con la propria anima. E quindi, a un certo punto, durante questa esperienza che ha vissuto, gli è apparso un libro dal titolo Quod Vita e Sectabo Ritter Quale cammino della vita seguirò? Cioè, lui poi, il concetto fondamentale che esprime in altre situazioni, in più situazioni, è proprio quello di imparare ad avere una mente pura e attenta. Pura e attenta, pura, adesso lo vediamo, con l'iperbolico dubbio assoluto, e attenta, quindi con degli intenti chiari. Cioè, tu devi sapere quello che vuoi. Devi essere consapevole di quello che vuoi, no? E questa cosa qui, che a lui gli è apparso in sogno, no? Come domanda, no? Che cosa vuoi, cioè, fare nella tua vita, no? Quindi decidi che cosa vuoi fare nella tua vita. Cioè, scegli qual è il mondo in cui tu vuoi vivere. Immaginalo, perché immaginandolo tu lo stai creando, no? Noi con l'immaginazione possiamo creare. Quindi sogni e visioni che lo inventarono ad accorgersi, a scegliere quale fosse la missione della sua vita. Non sembra che lo scrisse direttamente, però è stato evidente poi dalle sue opere che la missione di cui lui è diventato consapevole grazie a questi rapimenti mistici che ha vissuto è quello di riuscire ad insegnare alle persone a rendere se stesse e il mondo più felice. E infatti lui lo scrive, no? Lo scrive perché ha scritto questo libro, perché ha fatto quello che ha fatto nella sua vita, no? Cioè, è riuscito a farlo intanto perché era mosso da questo intento potente, no? Lui racconta, proprio l'ho già anticipato in altre mie dirette, no? Lui racconta che ha passato tutta la sua vita a studiare, a studiare, a studiare, a studiare, a studiare a un certo punto pensando che studiando avrebbe raggiunto la saggezza che gli avrebbe permesso di muoversi con chiarezza in questa vita insomma poi alla fine si è ritrovato una testa piena di contraddizioni, di falsità, di bugie che fanno parte normalmente della nostra educazione e di tutte le informazioni che noi riceviamo, no? Di tutte le informazioni, di tutte le cose che ci vengono dette, che ci sono state dette quante sono vere e quante sono false, no? Cioè noi viviamo nella falsità, nella falsità più opportunistica c'è chi se ne accorge, c'è chi non se ne accorge, no? A partire dal cibo, a partire da insomma tutto quello, le informazioni che ci vengono proposte sono per lo più false, no? Spacciate per vere ovviamente questo razionalismo che non è quello che ha voluto Cartesio anzi lui avrebbe voluto un'umanità consapevole di tutti connessi, intuitivi connessi alla loro anima, di questo che lui ha cercato da fare invece il metodo scientifico moderno che ha tolto l'anima annullato l'invisibile facendo credere che esiste solo ciò che è osservabile, irripetibile, dimostrabile in realtà è il metodo perfetto per essere falsificato e falsificabile quindi l'abbiamo visto adesso, anche sta venendo fuori quante palle ci sono state raccontate in questi tre anni da tutti i livelli, eh? Tutti i livelli, lì sembra e quindi per lui la salvezza dell'individuo era imparare a diventare intuitivi, no? Accolgersi di cosa è vero in mezzo a tanta falsità e qual è la motivazione, no? Quindi lui era guidato queste sono le sue parole avevo sempre un desiderio estremo di imparare a distinguere il vero dal falso quindi non sta dicendo ma mi sarebbe piaciuto, speriamo, ma bo forse, no? perché noi siamo stati tutti educati alla speranza non ha volere volere è potentissimo, no? quindi lui non solo ti dice io volevo ma aveva un desiderio estremo cioè era proprio una cosa forte quella che lo muoveva, no? per imparare a distinguere il vero dal falso si è accorto che c'aveva un sacco di menzogne anche per me è successo così, eh? perché io lo racconto, no? una volta ero innamorato della scienza anche io ero un razionale credevo solo a ciò che è osservabile ripetibile, dimostrabile e poi a un certo punto mi sono accorto di quante cazza cioè quante quanti paradossi, no? cioè non so faccio un esempio, no? noi da qualcosa ha avuto origine tutto da questa cosa che è stata chiamata Big Bang, no? che se ci pensi fa ridere perché è una realtà senza spazio, senza tempo senza energia, senza materia tutto ad un tratto cioè singolarità quantistica si è creato tutto tutto cioè tutto l'universo infinito con tutte le stelle tutto creato dal nulla così, pam poi lo stesso libro di fisica lì dopo tre pagine c'è il principio fondamentale nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma cioè mi ha appena detto che si è creato tutto dal nulla e poi mi dice che nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma poi altri tre pagine c'è l'entropia con la roba lì che si è inventato uno che si è suicidato Boltzmann che ci dice che la tendenza naturale della realtà è il caos il disordine e la morte termica la morte in generale quindi si è creato tutto dal nulla no? però poi nulla si crea non si distrugge tutto si trasforma però poi dopo tutto tende al caos allora se tutto tende al caos vuol dire che quando si è creato era perfettissimo e noi stiamo peggiorando insomma sono delle robe che se uno studia io anch'io cioè studio 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 cioè proprio mi sono perché l'ho amato quello mino qui perché quando ho letto la sua storia dico aspetta ma quella roba qui succede a tutti te te ascolti tutti credi a tutti e poi quando sei bambino prendi tutto come vero a un certo punto ti accorgi che c'è un sacco di roba che non sta in piedi cioè che non ha senso che proprio si contraddice e quindi lui cosa ha detto io butto via tutto un bel iperbolico dubbio assoluto questa è una roba grandiosa comunque torniamo ai suoi intenti perché lui ha fatto tutto quello che ha fatto che è quello che dobbiamo quello che possiamo imparare a fare anche noi adesso da lui ce l'ha spiegato come si fa cioè io l'ho seguita le sue indicazioni e per me sono state illuminantissime quindi qual è la motivazione non solo di imparare a distinguere il vero ma una volta che io imparo a distinguere il vero perché mi serve imparare a distinguere il vero in mezzo a tante falsità e questa è la cosa fondamentale per smettere di impedirmi di vivere il più felicemente possibile per smettere di impedirmi di vivere il più felicemente possibile cosa vuol dire sta cosa vuol dire che noi siamo tutti educati all'infelicità siamo tutti ci hanno riempito la testa di robe false per renderci infelici perché? perché nell'infelicità c'è l'obbedienza quando tu sei infelice sei scollegato dalla tua anima non sei intuitivo l'unica cosa che riesci a fare è obbedire a qualcuno che ti viene detto che è un esperto a cui devi obbedire per quello che noi dobbiamo riattivare la nostra capacità intuitiva dobbiamo riconquistare la nostra anima viverne l'esperienza imparare ad accorgerci delle cose che ci arrivano dall'esterno e lui in questo è stato proprio il maestro assoluto perché proprio questa è stata la missione della sua vita condividere quello che lui ha vissuto il metodo che lui ha applicato per imparare ad essere intuitivo quindi capace di riconoscere che cosa è vero in mezzo a tanta valsità e questo non vale solo per accorgerti quando sei al supermercato che stai comprando una cosa che sembra bella ma è mostruosa no? perché perché il concetto dell'anima non è un concetto che riguarda solo noi l'anima riguarda ogni cosa tu quando stai per mangiare una cosa tu non mangi solo quello che vedi di quella cosa lì mangi anche l'anima di quella cosa lì anche una mela ha un'anima una mela che tu raccogli dall'albero e te lo mangi ha un'anima diversa di una mela che è stata due anni in un frigorifero ricoperta di plastica no? quando tu mangi qualcosa che ha dentro un pezzo di carne di animale che è stato torturato che ha sofferto le pene dell'inferno quando tu mangi quella roba lì non c'è solo le proteine i carboidrati c'è l'anima di quello che tu mangi no? quindi imparare ad accorgersi dell'anima delle cose imparare ad accorgersi di che cosa è vero è fondamentale ma soprattutto con le persone quanta gente c'è in giro allora è facile cioè nella televisione perché io c'ero con la televisione no? perché nella televisione sembra che tutti quelli che sono lì sono lì perché devono mentire devono fingere di essere quello che non sono e dire cose che sono false no? quindi in questi tre anni le abbiamo viste ah c'è la Patrizia che mi fa una domanda sul metodo allora perché io in questo corso che faccio che adesso inizierò la versione in diretta online il 21 su Cartesio non ho non condivido solo il metodo di Cartesio ma l'ho unito al mio metodo quello del libro io scelgo io voglio io sono il metodo exotropic mind quindi c'è tutta una fase di autopotenziamento basato sul fare delle ripetizioni di parole potenzianti per poter creare delle connessioni sinaptiche nel nostro cervello l'avevo già spiegato nell'altra diretta questa cosa il nostro cervello non è in grado di distinguere che cosa è vero che cosa è falso tu puoi distinguere che cosa è vero e cosa è falso se è l'intuizione attiva e poi torniamo che cosa vuol dire essere intuitivi però il nostro cervello prende tutto cioè tutte le informazioni che arrivano le prende le memorizza e il nostro cervello è in grado di memorizzare una quantità infinita di informazioni c'è chi dice che ogni frazione di secondo di tutta la nostra vita è memorizzata nella nostra testa da ancora prima che nascessimo come fa il cervello memorizzare così tanta roba lo riesce perché non memorizza le informazioni ma crea associazioni sono tutte associazioni sinaptiche che si creano e quando serve un'informazione il cervello la ricostruisce all'occorrenza quindi secondo questo sulla base di questo metodo di acquisizione delle informazioni che cosa succede succede che se tu continui a sentire una menzogna cioè ti viene detta una cosa che è falsa però continua a esserti ripetuta 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 ad ogni ripetizione si crea una connessione sinaptica si crea un'associazione quando il numero di associazioni supera un valore di soglia per il tuo cervello quell'informazione è vera quindi il cervello non è in grado di capire che cosa è vero che cosa è falso produce associazioni le informazioni che hanno più associazioni sono quelle che il cervello considera vero ed è per questo che noi per tre anni ci hanno chiuso in casa e in televisione non hanno fatto altro che ripetere 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 hanno usato queste tecniche qua insomma per farci arrivare a credere delle cose false ma cosa succede quando nel tuo cervello si producono delle verità false pseudo verità che tutte le volte che ti arrivano informazioni che confermano quelle false verità tu provi piacere tutte le volte che dopamina tutte le volte che ti arrivano informazioni che negano che contraddicono le false verità che hai nella testa tu provi di spiacere per cui tutti quelli che si sono fatti lasciare fare il lavaggio del cervello poi sono diventati carnefici di quelli che invece non se lo sono fatti fare infatti quelli salvi sono quelli che la televisione non l'hanno guardata infatti che non si sono fatti fare il lavaggio del cervello comunque a parte tutti questi discorsi qua e quindi io il metodo che condivido il metodo exotropic mind che si basa su fare 21 giorni ripetendo 100 volte al giorno tutti i giorni delle dichiarazioni potenzianti cioè io scelgo più gioia più amore più gratitudine io voglio più gioia più amore più gratitudine io merito più gioia più amore più gratitudine faccio un esempio con la gioia l'amore e la gratitudine me lo puoi fare con tutte le virtù che vuoi con la bellezza con la ricchezza con la fortuna quindi tu continuando a ripetere queste cose perché è un'altra cosa bellissima del cervello che non distingue se le informazioni arrivano dall'esterno se le produci tu quindi se i complimenti te li fa qualcuno se te li fai te è uguale per il cervello quindi qui adesso iniziamo a farci complimenti che così almeno ci potenziamo un po' quindi la domanda era le chiedo gentilmente finite le 100 ripetizioni per 21 giorni qual è la cosa migliore da fare nei giorni successivi allora il concetto è tu fai 21 giorni ripetendo 100 volte al giorno io scelgo io voglio io merito le virtù che vuoi associare alla tua identità dopo il ventunesimo giorno quindi hai fatto almeno 2100 connessioni sinaptiche tra la tua identità e queste virtù puoi passare al io sono quindi per 21 giorni tu dici io scelgo più gioia più amore più gratitudine io voglio più gioia più amore più gratitudine io merito più gioia più amore più gratitudine arrivi al ventiduesimo giorno tu puoi dire io sono gioia io sono amore io sono gratitudine puoi dirlo senza creare turbolenze perché è un'informazione coerente io sono perché hai creato un sufficiente numero di connessioni sinaptiche e quindi si passa al io sono e poi si passa proprio a dare attenzione ai propri intenti ai propri desideri comunque qua quello che ci spiega Cartesio è tutte queste false credenze che ci sono state messe nella testa non ce ne siamo neanche accorti creano come una maschera che ci abbiamo proprio addosso infatti persona vuol dire colui che indossa la maschera non so se lo sapevate questa maschera di false credenze che non solo ci impedisce di essere felici ma ci impedisce di vedere la realtà per quello che è davvero e la realtà infinitamente più bella di quella che ci viene raccontata dalla televisione e dai giornali perché perché vale sempre quel principio lì del dividi e impera no? sono duemila anni non so da quanto tempo è che vanno avanti con questa roba qua no? pochi malvagi vogliono controllare milioni e miliardi di persone vogliono avere potere di vita e di morte su milioni e miliardi di persone questo è quello che stanno cercando di fare poterci poter avere il controllo del numero e come fanno devono depotenziare indebolire tutti per renderli obbedienti come si fa depotenziare e debolirli tutti per renderli obbedienti creando conflitti creando conflitti creando schieramenti e facendo partire dividi dividi crea conflitti così tu puoi imperare cioè un qualunque scemo può imperare su una massa di individui che sono lì a fare la guerra tra di loro l'abbiamo visto questi tre anni hanno creato gli schieramenti questi sono i bravi questi sono i cattivi i bravi andate a cacciare a punire i cattivi e gli obbedienti diventano poi carnefici dei disobbedienti cioè dal medioevo che avanti e così quindi come si fa uscire da questa da questo meccanismo devastante invece del dividio impera dobbiamo imparare a farlo unisce e prospera e la prima cosa da unire è proprio la propria testa dobbiamo fare armonia dobbiamo fare pace qua dentro tra razionalità e spiritualità tra visibile e invisibile quindi l'invisibile esiste ed è per questo che io amo la fisica quantistica il fenomeno dell'entanglement che è il fenomeno dell'entanglement dimostra che l'invisibile esiste comunque a chi interessa tutto l'aspetto quantistico dalle scoperte della fisica quantistica per arrivare alla consapevolezza dell'anima io a parte il mio libro la fisica dell'anima però ho un videocorso che ho fatto ho fatto un corso in diretta online che poi l'ho registrato e lo trovate sulla mia piattaforma www.entusiasmologia.com è un corso proprio dove ho spiegato tutto dalla fisica quantistica alla fisica dell'anima proprio dall'atomo l'elettrone il protone fino ad arrivare all'azione a distanza a tutti i postulati fondamentali della fisica quantistica che guarda caso corrispondono ai postulati fondamentali della magia rinascimentale questo è anche una cosa che dobbiamo recuperare e ritornare a imparare ad applicare in modo costruttivo quindi rapimento mistico che cos'è il rapimento mistico è l'esperienza che tu vivi della tua anima quindi fondamenti di un'ammirabile scienza vediamo non avete altre domande no perfetto quindi Cartesio è illuminante perché intanto ci spiega che noi possiamo essere super strafelici dobbiamo imparare ad essere super strafelici come si fa? dobbiamo smettere di impedirci di esserlo e come si fa? smettere di impedirci di esserlo? bisogna attraversare uscire da questa maschera di false credenze che ha l'unico scopo di depotenziarci per renderci obbedienti obbedienti a qualunque figura autoritaria che arriva ci dice quello che dobbiamo fare quindi questo metodo che lui ha condiviso non è solo importantissimo per attivare la capacità intuitiva ecco la capacità intuitiva vediamo la capacità intuitiva quando diciamo capacità intuitiva che cosa vuol dire che cosa intendiamo vediamo che qua c'è proprio le slide del corso che farò che terrò il 21 perché sull'intuizione ovviamente ci dedichiamo del tempo perché è importantissimo no? lì che cosa dice che cosa ci dice Cartesio no? ci dice non accettare mai nulla per vero non accettare mai nulla per vero se non ciò che sia in sé intuitivamente chiaramente distinto come tale cosa vuol dire intuitivamente chiaramente distinto come tale che tu devi avere la capacità di accorgerti intuitivamente dell'essenza delle cose qual è la vera essenza delle cose lui l'intuitus che non ha niente a che vedere con l'istinto perché l'istinto è qualcosa che arriva dal corpo l'intuizione è qualcosa che arriva dall'anima l'intuitus che cos'è per Cartesio il sapere non dubbio quindi è un'informazione che ti appare nella mente che ha sapore di verità tu senti che quella cosa è vera e che non hai bisogno di dimostrazioni di ragionamento di confermi di prove sai che è vera io questa cosa l'ho proprio vissuta pienamente quando ho scritto il libro La fisica dell'anima cioè per me la fisica dell'anima è stata illuminante proprio per capire la differenza che c'è tra i ragionamenti e l'intuizione cioè l'intuizione è una roba che ti arriva non se neanche da voi arriva però ti arriva nella mente e te sai che quella roba lì è vera e lui dice come si fa l'intuitus che cos'è sapere non dubbio di una mente pura e attenta pura e attenta qual è la mente pura la mente pura è quella del bambino che ha è nella meraviglia che non ha pregiudizi e prende tutto per vero la peggiore disgrazia che può capitare a un bambino sono dei genitori che lo lasciano davanti alla televisione se a un bambino gli capita di vedere un telegiornale rovinato per la vita perché perché prende tutte quelle schifezze quello che ha ucciso quell'altro come cose vere cioè si crea un'immagine della realtà che corrisponde a quello schifo lì quindi tutte le persone che sono minimamente capaci di accorgersi ormai la televisione hanno capito che non si può più guardare come attivare l'intuizione è brava Susi è questo quello che è il più grande insegnamento di Cartesio no è questo che lui che lui ci spiega e che io condivido ovviamente adesso qui nella diretta così vi spiego le cose fondamentali però faccio il corso opposta e mi piacerebbe assi perché c'ho qua ecco c'ho davanti le slide del corso che inizia il 21 che farò comunque qui con Facebook non so se si possono condividere le slide non ho mai provato a farlo a condividere lo schermo magari poi imparo come si fa posso una volta condivido anche le slide comunque io qua c'ho la slide dell'unicorno che è proprio il simbolo dell'apertura del terzo occhio l'intuizione che cos'è è la conoscenza immediata che arriva direttamente dall'anima o dall'intelligenza infinita a cui l'anima è collegata e che non si avvale di ragionamenti o di conoscenza razionale quindi sono informazioni per Cartesio in particolare è la ghiandola pineale l'organo che fa proprio da collegamento tra mente e anima lo descrive proprio questa cosa e quindi l'intuizione che cos'è? è una conoscenza immediata che ti arriva direttamente dell'anima quando è che ti arriva l'intuizione? quando è che impari che riesci ad essere intuitivo? quando riesci ad avere una mente pura e attenta cosa vuol dire avere una mente pura attenta e ce lo spiega lui ci spiega proprio tutto con il procedimento il procedimento ovviamente parte da un un terremoto interiore che è un atto di consapevolezza che che può veramente stravolgere la tua esistenza però prima prima si capisce che cos'è poi lo si vuole vivere e poi lo si vive lui l'ha chiamato iperbolico dubbio assoluto che cos'è l'iperbolico dubbio assoluto no? vediamo qua che si trova la slide ecco perché questa è quella delle slide così ve lo leggo proprio come lo descrivo lo descrivo nel corso allora prima cosa fondamentale serve un intento di autosufficienza questo è importantissimo perché noi siamo stati tutti educati a dover sempre dipendere da qualcuno a dover sempre obbedire da qualcuno ad avere sempre degli intermediari basta intermediari noi dobbiamo imparare ad avere un accesso diretto e consapevole con la nostra vera essenza innanzitutto che è quello tramite la quale poi possiamo accedere alla vera essenza di ogni altra cosa quindi si parte da un desiderio di autosufficienza tu hai tutto quello che ti serve non hai bisogno niente di nessuno sono solo atti di consapevolezza quelli che devi realizzare brava le persone empatiche hanno anche la capacità di intuire infatti questa è una cosa importantissima empatia e intuizione vanno insieme se vuoi essere intuitivo devi diventare anche empatico il problema qual è? è quello lì il problema grosso noi siamo nati tutti empatici e intuitivi poi piano piano c'è stata spenta sia l'intuizione che l'empatia ovviamente l'empatia io quando faccio questi corsi esperienziali dove andiamo nelle isole adesso Atene Arife è meraviglioso perché vado lì e non sto nell'albergo a Milano a fare questi corsi perché è fondamentale proprio l'energia che c'è intorno per aprirsi all'empatia quindi per tornare ad essere empatici qual è il modo migliore per tornare ad essere empatici? circondarti di felicità circondarti di energia bellissima circondarti di cose che vibrano alto allora tu ti apri e a quel punto ne hai solo dei benefici è chiaro che se uno vive c'è davanti al telegiornale con tutte le disgrazie del mondo con intorno tristi lamentosi vittimisti pessimisti tutta gente che vibra bassissimo tu smetti di essere empatico ti chiudi perché ti arriva tutta sta schifezza e a quel punto ti si spegne l'intuizione quindi l'empatia l'intuizione questo bisogna saperlo perché sennò poi uno si spaventa quindi io prima consiglio ti fai degli amici super felici e questo succede in tutti i miei corsi che il requisito fondamentale dell'amicizia sincera è l'affinità quindi chi viene a fare i corsi con me ha già delle affinità quindi ha già i requisiti fondamentali per diventare amici per imparare a essere reciprocamente potenzianti perché perché noi siamo ovviamente stati educati all'ipercriticismo reciproco quindi tu quando interagisci con delle persone normali che sono nel giudizio su di te normalmente ti depotenzi quindi noi siamo stati proprio educati a incontrarci per depotenziarci per indebolirci dividi e impera ci governano perché noi siamo reciprocamente reciprocamente ci indeboliamo se impariamo invece a potenziarci reciprocamente è chiaro che cambia tutto se impariamo ad accorgeci sta gente qua che ci governa la mandiamo dove merita di andare quindi la saggezza è collegabile all'intuizione assolutamente sì assolutamente sì perché l'intuizione ti collega all'animo all'animo ovviamente la consapevolezza dell'animo è infinitamente più grande della consapevolezza che hai come corpo come mente infatti tutti quelli che vivono un'esperienza con la propria anima poi iniziano a desiderare di riuscire a dare un contributo per l'evoluzione del pianeta dell'umanità cioè non ti preoccupi più dell'orticello qua vuoi fare qualcosa di grandioso perché la nostra anima è grandiosa di tutti tutti gli esseri umani quindi stavo dicendo desiderio di autosufficienza primo passo bisogna avere questo desiderio infatti lui lo descrive così sono stato allevato nello studio delle lettere fin dalla fanciullezza poiché mi si faceva credere che con esse si poteva conseguire una conoscenza chiara e sicura di tutto ciò che è utile nella vita avevo un estremo desiderio di apprendere ma non appena ebbi concluso questo intero corso di studi a termine del quale si è solito annoverati tra i dotti cambiai completamente opinione mi trovavo infatti in un tale groviglio di dubbi e di errori da avere l'impressione di non aver ricavato alcun profitto mentre cercavo distruirmi se non scoprire sempre di più la mia ignoranza e cosa ha fatto? appena l'età mi permise di uscire dalla tutela dei miei precettori abbandonai interamente lo studio e risolsi di non cercare altra scienza fuori di quella che potevo trovare in me stesso in me stesso c'è la conoscenza basta cercare la conoscenza fuori che è piena di bugie adesso la cerco dentro di me e nel gran libro nel mondo cioè attraverso l'esperienza diretta perché non si potrebbe così bene intendere una cosa e renderla propria quando la si impara da solo come quando la si impara da un altro come quando la si scopre da sé e questa è la frustrazione che vivono tutti gli adolescenti tutti che vogliono imparare vogliono imparare si trovano invece sempre qualcuno che gli dice no le cose sono così studia questo fai questo fai quest'altro e uno si sente messo in gabbia quindi quindi desiderio di autosufficienza e come si fa a raggiungere questa 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 capacità intuitiva no intanto devi diventare consapevole che del potere infinito della tua della tua del tuo pensiero della tua immaginazione l'uso dell'immaginazione e l'uso del tuo pensiero costruttivo questo ci insegna Cartesio solleciterò la mia immaginazione per conoscere più distintamente chi mai io sia cioè l'immaginazione questo ce lo diceva anche Einstein non è solo una cosa che possiamo creare per cercare di vivere situazioni rivivere o creare possibilità no l'immaginazione tu la puoi usare anche per vivere esperienze diverse da quello che potresti vivere con un corpo infatti lui dice non limitare la tua immaginazione alle cose che puoi vivere con un corpo a livello sensoriale perché con l'immaginazione puoi fare tutto no anche conoscere te stesso solleciterò la mia immaginazione per conoscere più distintamente chi mai io sia perché come si fa no brava non vi è nulla all'infuori dei nostri pensieri che sia interamente il nostro potere quindi lui dice qual è l'unica cosa su cui tu hai potere totale è il tuo pensiero il tuo pensare allora impariamo a pensare in modo costruttivo impariamo a pensare in modo potenziante impariamo a usare il nostro pensiero per conoscere la realtà per quello che davvero è e non per quello che ci viene raccontato eccolo qua ma la ragione per cui molti sono convinti che è difficile conoscere cosa sia la loro anima è che non portano mai le loro menti oltre a ciò che può essere percepito dai sensi quindi noi tendiamo a limitare la nostra immaginazione all'esperienza che noi abbiamo della realtà con il nostro corpo con i nostri sensi questo è un peccato perché noi con l'immaginazione possiamo fare di tutto allora questo questo iperbolico dubbio assoluto no allora il concetto qual è il concetto fondamentale qual è tu quando ti rilassi e lasci che la tua mente vada da sola dove sono i tuoi pensieri normalmente i tuoi pensieri dove vanno su cosa sui tuoi progetti futuri felici entusiasmanti su cose bellissime che immagini che vivrai su momenti straordinari della tua vita o i tuoi pensieri normalmente vanno sulle cose che ti preoccupano sulle cose che ti spaventano su tutte le cazzate che ti vengono dette mostruose nella televisione no quindi dove si muovono i tuoi pensieri normalmente lui ci spiega che i pensieri si muovono sul tuo edificio del sapere cioè nella tua testa c'è un edificio del sapere no c'è proprio una costruzione di verità che non ti sei creato tu ma che sono tutte le cose che ti sono state dette da quando eri piccolo no tipo l'erba voglio non esiste nemmeno nel giardino del re allora se non posso volere che cosa devo fare devi sperare ecco con sperare te spegni ogni potere perché con lo sperare non succede niente devi volere devi imparare a volere faccio per dire allora se i miei pensieri si muovono sul mio edificio del sapere e io mi accorgo che il mio pensiero è felice è potenziante è creativo è bellissimo benissimo perfetto non devi fare niente sei già sicuramente una di quelle persone che sta contribuendo all'evoluzione dell'umanità ma se tu invece ti accorgi che il tuo edificio del sapere non è poi così felice perché i tuoi pensieri normalmente vanno in posti dove hai le tue paure dove hai i tuoi conflitti dove hai le tue le cose che ti spaventano allora lì cosa dice lui e questo è è un atto di consapevolezza che poi diventa un'esperienza non è che uno si mette e dice ok adesso faccio faccio partire l'iperbolico dubbio assoluto iperbolico dubbio assoluto cosa vuol dire metto in dubbio anzi andiamo a vedere la slide che così ve lo leggo proprio così come lo descrivo nel corso anche qua c'è un sacco di slide rapimento mistico oltre la soglia introduzione al metodo l'iperbolico dubbio assoluto eccolo qua indipendentemente dallo scoprire o no l'esistenza del proprio vero essere ciò che gli uomini della chiesa hanno perché lì c'è tutta una storia di perché l'hanno perseguitato poi l'hanno avvelenato l'hanno ucciso ovviamente tutti quelli che basano il loro potere sulle menzogne hanno ucciso tutti quelli che insegnano come far ad accorgersi che quelle sono menzogne e quindi Giordano Bruno è stato bruciato vivo lui è stato avvelenato insomma quindi si allontanò dalla Francia dell'inquisizione nel febbraio del 1619 Misea Tolosa al rogo dopo avergli strappato la lingua il filosofo medico naturalista Cesaro Vanini riconosciuto improvvisamente colpevole di essere pensatore libero disobbediente sì perché l'inquisizione faceva così quando decideva che uno poteva smuovere le coscienze andava lo prendevano lo torturavano lo uccidevano gli ha strappato la lingua riconosciuto al poeta andò un po' meglio al poeta va bene questa è un'altra slide era l'introduzione all'iperbolico dubbio assoluto allora dubbio assoluto allora René introduce l'indispensabile illuminante iperbolico concetto di dubbio assoluto per dare libero spazio di azione al proprio pensare quindi tornare a poter avere il controllo dei propri pensieri per fare in modo che i propri pensieri siano felici costruttivi utili anche all'essere intuitivi serve sganciarlo dall'edificio del sapere su cui si muove quindi l'edificio del sapere sono tutte le cose che ti sono state raccontate da quando sei nato ad oggi che hai visto cioè quelli messi peggio adesso almeno in Italia sono tutti quelli che non riescono a rinunciare al telegiornale quelli che si fanno ogni giorno mettere dentro disgrazie conflitti violenze edificio del sapere su cui si muove serve la grande umiltà ma soprattutto il coraggio di rinunciare a qualsiasi idea di verità su cui la propria mente possa essersi legata serve riuscire a rinunciare a tutto ciò in cui si crede indipendentemente da chi da cosa da dove viene solo di se stessi ci si può fidare in questo cioè l'iperbolico dubbio assoluto ovviamente ognuno ha delle cose in cui crede che magari ha anche difeso perché questa educazione che ci ha resi super competitivi che ci ha messo tutti contro tutti ci ha anche portato a voler sempre avere ragione avere ragione perché voglio avere ragione per difendere le mie credenze perché le ho nella testa le voglio difendere sono credenze costruttive potenzianti utili a te ad essere felice ad essere a creare felicità se sono così perfetto io ti benedico e sei una benedizione per l'umanità se invece sono credenze che ti rendono infelice che ti rendono conflittuale che invece di portarti a essere generatore di gioia e felicità ti fanno generare casini caos disordini infelicità allora è il caso di mettersi lì e facciamoci autofacciamoci questa pulizia e si chiama iperbolico dubbio assoluto vuol dire tutte le cose in cui credo le metto dentro proprio in un diluvio parto da una qual è l'unica verità da cui partire l'unica cosa di cui puoi essere certo da cui partire per ricostruirti tutto il tuo edificio del sapere non sulla base di quello che ti raccontano gli altri la televisione che ne so gli esperti gli esperti ma sulla base della tua capacità intuitiva quindi tu disintegri il tuo edificio del sapere attivi la tua capacità intuitiva e te lo ricostruisci te lo ricostruisci su base intuitiva non su base solo conoscitiva o di osservazione non sei più passivo nel ricevere informazione ma diventi attivo perché tu diventi intuitivo quindi capace di accedere direttamente al vero quindi quindi qual è l'unica verità da cui partire per ricostruire tutte le altre è che tu esisti perché pensi il tuo pensare cogito ergo sum non è il mio corpo che mi dimostra che io esisto questo lo spiega lui benissimo perché il mio corpo potrebbe essere che io sto sognando adesso sto sognando sto sognando di essere qui che sto facendo la diretta sto sognando di avere il corpo sto sognando di avere questi occhiali e magari non esiste niente di questo lo sto sognando io lo sappiamo che il cervello è il cervello che si crea l'immagine della realtà cioè non è quello che noi vediamo non è reale è un'invenzione del nostro cervello sulla base di stimoli che arrivano dall'esterno quando sei sveglio interpreta i segnali che arrivano dall'esterno quando dormi il cervello se la crea lui la realtà infatti questo è il concetto fondamentale quindi tu non puoi neanche essere certo che il tuo corpo esiste metto in dubbio anche quello però qual è la verità da cui partire che la mia esistenza è dimostrata dal mio pensare nel momento in cui io penso io esisto e il mio pensiero è indipendente anche dal mio corpo perché noi siamo innanzitutto anima e questo è il grande messaggio di Cartesio noi siamo anime senza spazio senza tempo onniprosei onnipresenti con fenomenali pettori cosmici con talenti straordinari rinchiusi nel ristretto spazio vitale di un sistema mente-corpo con una mente che come obiettivo c'è la sopravvivenza e la continuazione della specie e che c'è dentro un sacco di falsità spacciate per vere e quindi noi liberiamoci da queste falsità di iperbolico dubbio assoluto e diventiamo intuitivi diventare intuitivi come si fa allora prima bisogna bisogna fare il dubbio assoluto e poi bisogna raggiungere questo allineamento tra gli emisferi cerebrali quindi spiritualità e razionalità devono essere in armonia quindi dimentica il metodo scientifico moderno perché quello parte dall'intento di conoscere la natura per dominarla e produrre utilità pratica quindi la razionalità vuole dominare le cose anche nel mondo non è solo nella nostra testa nel mondo come è che fanno gli americani a tenere a voler mantenere l'egemonia sul mondo vanno a creare conflitti ovunque la nato va a creare conflitti guerra ovunque dividi e impera tu pensa se l'Italia si unisse se l'Europa si unisse alla Russia invece che sta a fare la guerra noi diventiamo la prima potenza a parte questi discorsi che poi dopo alla fine uno si accorge noi dobbiamo imparare ad accorgerci questo è il succo qua già da un'ora che parlo ragazzi dobbiamo imparare ad accorgere una volta sopravviveva i più forti poi hanno iniziato a sapere sopravvivere quelli più intelligenti quindi capaci di creare cambiamenti in una situazione di crisi quelli capaci di creare cambiamenti sono sopravvissuti adesso chi è che sopravvive? quelli che si accorgono quelli intuitivi quindi prima roba per diventare intuitivi smetti di guardare la televisione perché quella è proprio una roba che ti depotenzia ti mette in turbolenza e ti scollega da qualunque capacità intuitiva quindi cerca di mantenere alta la tua vibrazione io condivido tutte le tecniche che conosco per questo è l'immanenza la tecnica del campo G insomma alza la tua vibrazione perché devi bisogna ridurre la differenza di potenziale tra noi tra la nostra mente e la nostra anima la nostra anima è amore gioia infinito e quindi ha una vibrazione altissima quindi quando tu ti avvicini a quella vibrazione lì puoi entrare in connessione serve l'allineamento tra razionalità e spiritualità quindi tra rapporto col visibile e il conosciuto e il rapporto con l'invisibile e lo sconosciuto quindi la spiritualità è il nostro rapporto con l'invisibile e l'incertezza è il mistero e per questo perché è razionale io tutto quello che io ho fatto visto che io ero razionale è finalizzato a questo quindi se tu vuoi riattivare la tua spiritualità felice la fisica quantistica ti dà tutte le informazioni che servono perché il fenomeno dell'entanglement e la doppia fenditura sono i due fenomeni che ti aprono a una consapevolezza dell'invisibile bellissima ed è vera che ovviamente il metodo scientifico moderno invece nega poi ovviamente ci sono anche altre cose da fare ci sono tante le cose che si può fare credo ci sia un grande risveglio certo c'è un risveglio in corso di consapevolezza potentissimo infatti io sono felicissimo di questo che i piani diabolici di quelli che ci volevano tutti lì a obbedire e basta stanno saltando però noi dobbiamo imparare ad unirci dobbiamo imparare ad attivare la nostra capacità intuitiva e soprattutto dobbiamo imparare a usare la nostra immaginazione per creare il mondo più felice che vogliamo la nostra vita più felice e il mondo più felice che vogliamo dobbiamo iniziare a crearlo con la nostra volontà con la nostra immaginazione e soprattutto dobbiamo imparare a difenderci dal male imparando a riconoscerlo perché la più grande abilità del male è quella di farsi di mascherarsi da tuo benefattore da tuo salvatore quindi oggi più che mai io sono andato a rispolverare tutto quello che avevo letto studiato appassionatamente di Cartesio proprio perché mi sono accorto che i suoi insegnamenti sono fondamentali per noi adesso mi sembra quando leggo le sue cose quando ho preparato questo corso ha detto ma Cartesio queste cose qui le ha fatte per noi ce le ha fatte pensando a noi a quello che stiamo vivendo noi in questo momento nel mondo perché è tutta l'umanità che è in crisi in questo momento non dimentichiamoci nel passato i problemi ci sono sempre stati però mai hanno coinvolto tutta l'umanità coinvolgevano solo delle aree del mondo mentre qua c'era l'inquisizione c'è in India in Indonesia vivevano in modo diverso con una spiritualità diversa quindi adesso invece c'è tutta l'umanità che è sotto questo tentativo di malvagi di ridurci a essere come poli di allevamento a rinunciare alla nostra libertà per vivere solo in base alle loro decisioni quindi quindi ragazzi io sono contentissimo di quello che sto facendo ieri questo corso questa giornata sulla fisica quantistica è stata illuminante anche perché proprio io quando condivido queste cose mi accorgo che sono proprio quelle che servono in questo momento qua adesso il 21 inizierò il corso in diretta online proprio su io sono l'ho chiamato sul metodo di cartesio combinato col mio metodo di io scelgo io voglio io sono del mio libro io scelgo io voglio io sono che raccoglie insomma le cose più potenti che ho scoperto nella mia vita proprio per imparare ad autopotenziarci quindi imparare ad autopotenziarci da soli quindi se là fuori ci sono se nelle televisioni nei telegiornali ci sono tutte cose che ci arrivano per creare conflitti e per indebolirci e per toglierci la capacità di accorgerci di che cosa è vero noi però possiamo attivare il potere che abbiamo sul nostro pensiero impariamo a difenderci da queste cose impariamo ad autopotenziarci a renderci intuitivi eccoci qua allora speravo di conoscerti il 17 certo il 17 siamo sul lago d'endine c'è quell'iniziativa lì aspetta il 17 dell'evento ma purtroppo parto eh vabbè se non puoi venire mi spiace il 17 facciamo questo evento bellissimo con il professore Spaggiari e con Roby Spagnolo sul lago d'endine per informare l'acqua faremo questa meditazione quando alzi la tua vibrazione ti accorgi che molte persone che prima frequentavi non sono più presenti eh beh per forza ti alzi la tua vibrazione c'è quelli che hanno la vibrazione più bassa non sono più compatibili però sai quanta gente poi trovi nei miei corsi tutti hanno la vibrazione alta perché quelli che ce l'hanno bassa impariamo subito ad alzare questo poi l'inizio fatti sentire solo eh beh certo io faccio quella metafora lì nel libro nel libro la nel libro la fisica dell'anima no tu sei un concordo ho fatto concordo vabbè te sei un'astronave c'è in mezzo ai tricicli che ti convincono che tu sei un triciclo no a un certo punto accorgi che sei l'astronave e dici cosa sto qua fa con i tricicli no gira a destra gira a sinistra cioè parti e decolli no e tutti cercano di impedirti ovviamente di decollare allora è chiaro che lì c'è un momento di solitudine però perché serve diventare intuitivi perché serve vivere questa esperienza di connessione con la tua anima perché la prima cosa che ti svanisce quando vivi l'esperienza della tua anima è proprio la paura della solitudine e la paura della morte cioè le due paure fondamentali vanno via quando diventi consapevole della tua anima e quando vivi l'esperienza della tua anima per cui la solitudine che prima temevi a un certo punto inizia a desiderarla anzi la solitudine diventa proprio fonte di gioia di autoconoscenza di bellezza cioè la solitudine da solo puoi fare cose che nemmeno sospetti meravigliose proprio cioè proprio raggiungere questo stato di beatitudine ma anche diciamo costante quando sei nel flusso ecco io ho detto quando sei nel flusso dell'entropia costruttiva sei in uno stato di grazia tutte le cose funzionano ti accorgi che sei in relazione col tutto cioè una figata qual è la nostra condizione normale quella dovrebbe essere la nostra condizione normale quindi dobbiamo reimparare ad applicare ad esprimere la nostra vera natura che è bellissima che è straordinaria e quindi e quindi quando tu poi decolli e c'è un momento di solitudine perché ti spiace lasciarla giù tutti i triciclini che sono lì davanti a telegiornale a parlare dei loro problemi dei loro disgrazi e quindi tu vai e c'è un momento di solitudine però poi quando ti alzi ti accorgi che là sopra c'è un sacco di gente che era lì che ti aspettava da chissà quanto quindi non aver paura anche di rinunciare ad amicizie limitanti cioè tutte le persone che provano invidia che vivono una rabbia che vivono in rancore che stanno a guardare la televisione i telegiornali quelli lì mollali cioè mollali non puoi stare più cioè te vibri così Cotrino che vibra così cosa vi raccontate cosa dite cioè quello parla solo dei suoi problemi te c'hai progetti progetti per l'umanità cioè come si fa però siamo 8 miliardi ci stiamo ci stiamo su questo pianeta anche in 300 miliardi se impariamo a essere collaborativi invece che che competitivi quindi giusto Adele hai fatto notare questa cosa cioè quando inizi a illuminarti tutti quelli che sono spenti non sono più simpatici come erano prima non aver paura perché poi troverai un sacco di altri amici ti farai un sacco di altri amici questa volta veri questa volta potenzianti come si fa vieni ai miei corsi che tutti quelli che partecipano diventano super amici quindi del sorriso la tua diretta prossima domenica convoggerò anche il team del sorriso la tua diretta bene eh sì anche perché il sorriso ecco concludiamo questa diretta così perché qua già un oro e un quarto il sorriso è il più potente simbolo antimalefico che esiste nell'universo quando tu sorrisi ti appare un demone davanti cos'è quella roba lì una roba che nasce dalla paura genera paura si nutre della tua paura la tua paura dà forza a questa roba qua tu che cosa fai invece di dargli la tua paura gli dà il simbolo di tutta la felicità della tua vita il sorriso è il simbolo è un simbolo nell'invisibile contano i simboli ed è un simbolo che non è solo associato a tutti i momenti felici della tua vita ma anche associato a tutti i momenti felici della vita di tutti gli esseri viventi nell'universo che sono in grado di sorridere di essere felici quindi è una roba potentissima quindi impariamo a usare il sorriso come strumento di protezione e anche di allineamento e anche per alzare la nostra vibrazione il sorriso e poi la parola grazie ovviamente che è una parola bellissima anche quello lì è un simbolo grazie allora ricapitoliamo per chi vuole vivere un po' di queste esperienze metafisiche rapimenti mistici diventare intuitivo condividerò tutto quello che ho scoperto che ho imparato che ho anche vissuto perché sono tutte cose che ho vissute quelle che io condivido in questo corso io sono che ho chiamato io sono dove parlerò condividerò sia il metodo di cartesio sia il mio metodo quello del io scelgo io voglio io sono che è un metodo che si che è già stato applicato da decine di migliaia di persone con grande successo e quindi anch'io l'ho applicato nella mia vita e quindi sono cose semplicissime però sono cose molto potenti e quindi sono felicissimo di condividerle quindi rispetto a come spiegavo prima il mio metodo della ripetizione delle tripleti dei desideri degli intenti quindi il metodo exotropic mind proprio considerando quello che sta succedendo all'umanità questa è proprio un'edizione particolare del corso perché ci ho messo tutti gli insegnamenti di cartesio che in questo momento sono veramente i più attuali e i più necessari e i più importanti che possiamo applicare da qualcuno di grande del passato che ha fatto qualcosa di importantissimo per l'umanità cartesio ha fatto fare un salto evolutivo all'umanità enorme quindi il metodo di cartesio per ben dirigere la propria ragione per imparare a guidare i propri pensieri e ricercare la verità nella conoscenza cioè imparare a riconoscere che cosa è vero in mezzo a tanta falsità sia che si tratti di informazioni sia che si tratti di notizie sia che si tratti di cronaca sia che si tratti di persone perché dobbiamo anche imparare a riconoscere le persone vere dalle persone false opportuniste che sono tutte in televisione in politica quindi noi il 21 chi vuole sarà un corso che si fa la sera in quattro puntate dalle 20.30 alle 22.30 iniziamo il mercoledì 21 giugno sono quattro mercoledì sera e quindi a casa tua in diretta online e quindi questo è un appuntamento bellissimo che non vedo l'ora di iniziare poi ovviamente per chi vuole vivere l'esperienza anche circondati da un contesto di energia di bellezza di potenziamento cioè oltre la teoria la pratica quindi vivere anche la pratica proprio dell'immanenza la trascendenza rapimenti miti tutte queste cose qui faccio questi corsi a Tenerife e si vabbè Tenerife prendi l'aereo quattro ore sei lì non è che sia e avrò questo corso in programma dal 26 luglio al 2 agosto quindi una settimana lì siamo un gruppo e questo è lì è bellissimo per me mi piace tantissimo questi corsi esperienziali perché facciamo la teoria ma poi facciamo anche la pratica quindi il rapimento mistico noi lo viviamo con la luna piena e quindi ci sarà tutta una serie di esperienze che vivremo per imparare ad alzare la nostra vibrazione l'immanenza l'intuizione insomma le facciamo tutte lì in pratica con persone con cui poi diventiamo amici ed è questo diciamo una cosa bellissima dei miei corsi poi altre cose va bene non sto a dirvi basta che andate su il sito www.entusiasmologia.com sapete che io ho fondato l'entusiasmologia al 9-9-2009 anzi lo scrivo qua iscrivetevi alla mia newsletter se volete sapere sempre tutte le cose che faccio perché ci sono corsi esperienziali come questo che è Tenerife però ci sono anche iniziative gratuite tipo questa che faremo il 17 settimana prossima sul lago Dendine con Roby Spagnolo e il professor Spaggiari per dare informazioni d'amore all'acqua al lago Dendine sfruttando i principi quantistici della coerenza del quarto stato dell'acqua per mandare informazioni a tutta l'acqua che c'è sul nostro pianeta info per Tenerife guarda le info per Tenerife ce le ho qua ta 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 vai su comunque se andate su www.entusiasmologia.com ecco questo è il corso che tengo a Tenerife con la luna piena fine luglio 2 agosto poi cos'altro niente mi seguite vi scrivete la newsletter tutte le cose che faccio tutte le iniziative sia dirette corsi esperienze c'è insomma c'è un po' di tutto no e quindi trovate tutto c'è come se vi scrivete vi mando la newsletter con tutte le novità sciamanesimo esatto anche quello non lo usiamo i sciamani chi sono sono persone che sono capaci di comunicare entrare in risonanza e comunicare con l'essenza l'anima della natura e quindi lo sciamano è la persona che è capace di essere in amore con la natura quindi noi a Tenerife anche viviamo cioè io come entusiasmologia che già ha partecipato ai miei corsi o comunque mi segue o ha letto i miei libri insomma lo sai io ho fondato l'entusiasmologia proprio per metterci dentro tutte le cose più grandiose che ho scoperto dal passato quindi ci sono elementi di sciamanesimo ci sono elementi di filosofia ermetica perché no la massima ambizione dello scienziato rinascimentale era diventare mago quindi la magia secondo lo scienziato rinascimentale era la capacità di interferire col dinamismo possibilista del reale quindi con le azioni dinamiche della natura attraverso puri atti di volontà e questa capacità si attiva quando tu sai essere in amore quindi è sempre una questione di amore quale amore è l'amore che muove il sole e le altre stelle è l'amore di Giordano Bruno quello quell'unica forza che unisce infiniti mondi e li rende vivi quindi su questo noi ci concentriamo per attivarlo in noi quindi nell'entusiasmologia c'è sciamanesimo c'è fisica quantistica c'è filosofia ermetica esoterismo insomma tutto quello che può esserci utile per smettere di impedirci di vivere il più felicemente possibile imparare a realizzare i nostri desideri e imparare a contribuire a rendere la nostra vita il mondo più felice è entusiasmologico e quindi ragazzi ragazze grazie di aver passato con me questo tempo la domenica mattina vi voglio tanto bene e mi auguro che prima o poi ci vediamo ci incontriamo in qualche il mio evento grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.